Ciao a voi, ciao Ciao, ciao Abbiamo ancora un'altra ascoltatrice, Giulia Pronto? Pronto? Giulia, ciao, buongiorno Sì, salve, buongiorno Cosa vuoi chiedere ad Annalisa? È tutta per te, eccola qui Buongiorno, siccome le domande non mi vengono Perché Annalisa un po' mi conosce Ha portato bene, credo E quindi sa che le domande in questi momenti sono Intorno all'otto, perché è tutto che mi gira In testa, perché non me l'affetto ovviamente Ed è un'emozione pazzesca Quindi non mi resta che salutarla E farne complimenti più che altro Va bene, grazie Grazie Giulia, sei carinissima, ti mando un bacione Un bacione Anche a tua mamma Un bacione, ho fatto tremare il fabbattonani Tesoro Ho bianco tantissima Ma sono troppo felice Perché è un'avventura difficile Ma che è l'amare di tutta Quindi assolutamente continua Io spero come ti riferiscono I nostri amici comuni Sarò sempre con te Grazie tesoro Giulia diamo spazio ad altre persone che sono al telefono Va bene, grazie mille per la telefonata Ciao 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 Un bacio